Silenzio, tu l'hai già visto? Ma va, ti ho aspettato. Sei un grande, grazie. Ragazzi, ci guardiamo il trailer, quindi zitti! Silenzio! In un mondo in cui la tecnologia connette tutti. Non voglio giustizia, maledizione. Un uomo vaga per la superstrada informatica in cerca di cyber giustizia. Voglio cyber giustizia. Una semplice riga di codice può distruggere ogni cosa. Sarà una cyber tastrofe. Cyber Drive Sparagli una raffica di codice, c'è. Jimmy Sisca, ehi! Scegliete, ragazzi. Seguitemi o morite. Devon von Devon! Dobbiamo portare al sicuro quegli hacker. Non sono hacker, Devon. Sono soltanto dei newbie. Ehi, la macchina parla! Questa non è la smart car della mamma. La prossima volta ci servirà un firewall migliore. Sai? Cyber Driver! Cyber Driver! Spacca il culo ai passeri! È l'auto che parla, ammettilo, Josh. L'auto è figa. Sapete che vi dico? Montiamo una nostra versione del trailer. E... Quell'auto ci aiuterà a farlo. Davvero? Guadagneremo un botto di follower. Sì, prima io e Josh andiamo agli studios a prendere il copione. Così vediamo anche le altre perle che hanno sul Death Sect. E cerchiamo la macchina. Ok, come procediamo? Pubblichiamo un proclamo? No, che senso ha? Ci metterebbero una pezza? No, che ci provino. Tranquillo, Cyber Bimbo. I film sugli hacker vanno hackerati. HMP Studios. Vi riteniamo responsabili per lo schifo che ha Cyber Driver.